L'Omicidio di Roland Legron Il milionario non durerà a lungo. Finanzierò ogni piano di fuga che organizzerai, ma devi tenermi in vita. Ora siete di proprietà dell'amministrazione penale della Guyana francese. Non c'è modo di fuggire. C'è sempre un modo. So che molti di voi stanno pensando alla fuga. È la tua unica occasione. Sentitevi liberi di provarci quando volete. Devo venire con te. Ci sono 30 guardiani sempre in servizio. Se riuscite a deluderli, c'è la boscaglia, dove il meglio che vi può capitare è morire di fame. O potete scegliere il mare. Lui a che ci serve? È mio amico. Dove gli squali sono sempre affamati. Se dovessimo riacciuffarvi vivi, finirete due anni in isolamento. Al secondo tentativo di fuga, finirete all'ergastolo sull'isola del diavolo. E lì succedono strane cose. Anche gli uomini più forti si spezzano. Fabio! Io non morirò qui. Te lo garantisco. Io non aver fatto. E tutto.